Se ne era già parlato ma il progetto sembra prendere forma le scuole, il plesso scolastico di Rovetta e l'annesso centro sportivo potrebbero essere riscaldati dalla vicina centrale biomassa della piscina. Con il procedere dei lavori della piscina si sta andando avanti anche con la rete di teleriscaldamento che consentirebbe di connettere le scuole elementari, le medie e la palestra attraverso una rete di teleriscaldamento alla centrale biomassa che verrà realizzata presso la piscina. In quel modo una centrale di biomassa che brucia le biomasse legnose derivanti dai boschi del nostro territorio produce acqua calda che serve per il riscaldamento degli ambienti delle scuole e degli impianti sportivi del comune di Rovetta. È una rete che è già inserita nel piano dei lavori pubblici del comune di Rovetta per il quale è stata fatta una richiesta di finanziamento al GAL, gruppo azione locale Valle Seriana Superiore, dal quale abbiamo già avuto una risposta positiva per un finanziamento a fondo perduto di 150 mila euro.